È possibile effettuare la modifica della portata e dei criteri di calcolo. Quando si modifica una portata saranno variati i valori di tutti i rami interessati. Quando si modifica un criterio di calcolo, come la velocità, la resistenza occasionale o la formattazione del testo, viene aggiornato solo il testo selezionato. Utilizzare i comandi del CAD per copiare, spostare, stendere o cancellare. Noti che i nuovi rami non ancora passati in assegna nel calcolo appaiono in arancione. Selezionarli nuovamente per effettuare il dimensionamento. Come regola generale, dopo ogni modifica alla rete, ricordarsi di aggiornare il dimensionamento con il comando Calcola.